Rieccoci tornati in studio per inaugurare questo nuovo spazio che poi sarà fisso tutte le settimane all'interno della nostra trasmissione, all'interno di Marte di Sport e sarà dedicato al Cuno 1905 Olmo, quindi parliamo di calcio, sarà appunto uno spazio in cui tratteremo i temi di questa nuova società che è nata con grandi ambizioni quest'estate, cercando di riportare il calcio cunese dove merita, parleremo della prima squadra che è protagonista di un ottimo campionato in eccellenza, parleremo dei progetti, della società, del settore giovanile, iniziamo questa sera parlando in particolare di prima squadra insieme al direttore generale Walter Varcellone, buonasera Walter, e insieme all'allenatore della squadra Michele Magliano, buonasera mister. Allora, diciamolo subito, siete arrivati dopo una partita non fortunatissima perché è arrivata una sconfitta sul campo del Pinerolo, comunque era una partita complicata, un campo difficile, una partita d'alta classifica, una sconfitta per 4-1 con episodi particolari, ne parleremo, però in generale insomma il progetto Cune Olmo sta andando alla grande, la classifica è ottima, siete ancora in testa della classifica, c'è un finale tutto da vivere. Allora, prima di iniziare a parlare della partita e in generale del campionato andiamo a vedere la classifica, abbiamo detto della sconfitta per 4-1, tra l'altro il Cuneo era anche passato in vantaggio con un gol dopo pochi minuti del capitano, un bel gol del capitano Giacomo Dalmasso, poi sono arrivati questi quattro gol del Pinerolo, vediamo la classifica che insomma è davvero molto molto ingarbugliata là davanti, con tantissime squadre in pochi punti, lo vedete che il Cuneo ancora in testa insieme a Pinerolo e Chisola a quota 42, poi c'è l'Alba Calcio a 41, il Rivoli a 40, a 39 l'Aqui, ci sono davvero tantissime squadre in pochi punti e in queste giornate finali ci sono davvero da divertirsi e guardo Walter da soffrire, perché soffre davvero tanto in tribuna, il mister soffre anche lui in panchina, allora mister parto proprio da te, da un'analisi della partita di domenica, abbiamo detto si era cominciato bene con un bel gol, è un primo tempo giocato bene, vi hanno condannato un po' di episodi, soprattutto i calci piazzati, insomma come analizzi questa partita, cosa non è andato, come l'avete preparata e come speravate? Ma innanzitutto il primo tempo è stato secondo me decisamente piacevole, penso che anche il pubblico si sia divertito perché è stata una partita equilibrata, è stata una partita giocata a ritmi intensi, è stata una partita anche con una buona qualità di gioco, alla pari, alla pari da tanti punti di vista, anche se loro forse erano superiori a noi, sono superiori a noi dal punto di vista fisico, intendo dire come altezza, nel senso che è una squadra decisamente strutturata, però noi con il nostro gioco e con la nostra intensità e la qualità che abbiamo in qualche singolo abbiamo saputo proporre un ottimo primo tempo, siamo stati condannati già nel primo tempo da qualche situazione nelle quali abbiamo evidenziato qualche errorino individuale, cosa che soprattutto quando si affrontano squadre di quella caratura lì rischi di essere penalizzato e poi nel secondo tempo, nel momento in cui, mi sembra al settimo del secondo tempo, al quinto del secondo tempo, siamo rimasti in inferiorità numerica e su quel fallo lì è scaturito il loro 3-1, la partita lì si è decisamente incanalata, diciamo così, in una strada assai complicata per poterla ritirare su. Io sono stato parzialmente soddisfatto per quello che abbiamo proposto, soprattutto fin tanto che siamo stati 11 contro 11, devo dire che l'avevamo preparato in un certo modo e eravamo anche riusciti a metterla in difficoltà. Dobbiamo però migliorare in determinate circostanze, soprattutto, lo dico da ex difensore, soprattutto nella fase di marcatura, nella fase difensiva, nella quale in questo momento concediamo qualcosa di troppo e se vogliamo provare a continuare a stare nei quartieri nobilissimi, dobbiamo assolutamente migliorare da quel punto di vista. Ecco, poi coinvolgiamo anche Walter, ma hai parlato tu della classifica, l'abbiamo vista prima, siete là davanti dall'inizio, insomma, adesso si fa dura nel senso che ci sono tante squadre e tante squadre attrezzate, però è bello giocare, no? C'è il proverbio che dice che quando il gioco si fa duro i duri cominciano a giocare, è assolutamente stimolante, è assolutamente stimolante e penso sia assolutamente gratificante sia per la società che per noi, come dire, coinvolti in prima persona, per i giocatori, fare partite del peso specifico come quella di ieri, andare a giocare con l'Alba Calcio fra due domeniche, andare a giocare anche fra tre domeniche, fra due domeniche, andare a giocare contro la Prodronero, che quest'anno forse è una di quelle che manca là davanti, che però ha potenzialità per poter, come dire, essere assolutamente in quel pacchetto. Giocare quelle partite lì è assolutamente stimolante, gratificante, particolarmente bello. Certo, siamo in tanti, sarà assolutamente difficile, però io sono sempre partito con l'idea che noi dobbiamo essere protagonisti, siamo in questo momento protagonisti, dobbiamo esserlo fino alla fine. Direi che fino adesso lo siete stati assolutamente, Walter, insomma, al di là di domenica, che abbiamo detto condannati da un po' di inesperienza, qualche errore singolo, da dei calci piazzati, insomma, come diceva il misto, ci sono tante anche cose positive nella partita di domenica, però il cammino fatto finora, immagino che la società non si aspettasse forse di trovarsi a lottare, a lottare per quelle posizioni in questo momento. No, diciamo che sicuramente i pochi che ci credevano eravamo noi interni, perché… Sono qua in questo studio, seduti. Dal di fuori, non conoscendo in realtà Olmo perché non venivano a vedere, perché leggevano solo, pensavo che fossimo una squadretta buttata così, invece abbiamo dimostrato che abbiamo costruito negli anni, e quest'estate abbiamo inserito due o tre giocatori che ci hanno aiutato a crescere, anche se numericamente vediamo adesso che purtroppo patiamo un po' gli infortuni gravi di gente importantissima, a noi pesano, forse altre squadre no, perché magari hanno una rosa più ampia, ma noi con questa rosa ristretta che abbiamo puntato anche molto sui giovani, e logicamente adesso ne portiamo le conseguenze, però siamo convinti che possiamo arrivare fino in fondo, giocarci fino in fondo, devono crederci i ragazzi, noi ci crediamo, deve crederci anche il pubblico che viene al Paschiero, che è la cosa fondamentale in questo momento, che abbiamo portato gente di nuovo a cura, un entusiasmo e proseguiamo. Ecco, avete portato entusiasmo con questo nuovo progetto, quindi facciamo un passo indietro, visto che tu rappresenti anche la società, per parlare di come è nato questo progetto, è importante per riportare il calcio cunese dove merita, dopo quello che sappiamo che è successo, c'è stata questa fusione nell'estate tra Cuneo e Olmo, un po' di scetticismo all'inizio, però insomma adesso, come dicevi tu, in tanti stanno capendo la bontà di questo progetto, ci sono tanti sponsor, tanto il territorio compatto, insomma un bel progetto. Diciamo che tanto entusiasmo, tanta ambizione e tanta voglia di fare, ripeto, riportare a Cuneo il calcio al Paschiero dopo questi anni bui, per noi era fondamentale, e ancora essere lì tutte le domeniche a giocare per il primo posto è ancora più stimolante. I fedelissimi adesso si stanno ricredendo un pochettino, ma a prescindere dalla prima squadra stiamo lavorando molto bene nel settore giovanile, stiamo costruendo qualcosa di importante, facciamo il nostro centro adesso a Picca Pietra, poi ci sono molte novità, quindi stiamo lavorando anche per costruire la società, che è la cosa fondamentale, sono le basamenti per riuscire a crescere e puntare a qualcosa di importante, perché dobbiamo sempre pensare che noi non abbiamo un Presidente col Capitale, ma abbiamo tante persone che ci aiutano per poter riuscire a portare un progetto a Cuneo quello che vogliamo. Ci sono tante cose in cantiere, come hai detto tu, questo centro sportivo, ma avremo modo di parlarne perché ogni settimana avremo questo appuntamento fisso, quindi tutte le novità che ci saranno potremo parlarne, tutte queste novità sta da facendo, torno dal mister, perché in questo progetto tu sei stato scelto per, tu allenavi l'Holm, insomma sei stato scelto per continuare questo percorso, ma penso con un'emozione forse in più, l'hai detto in diverse circostanze nelle presentazioni, perché tu da ex giocatore del Cuneo, da Cunese, l'hai sentito particolarmente, questo orgoglio continua a sentirlo. Io sono onorato, l'ho detto tante volte, io da Cunese, da ex giocatore del Cuneo, da ragazzo che è cresciuto sia a livello anagrafico nelle strade di Cuneo e a livello calcistico nella società sportiva del Cuneo, per me è un pochino una chiusura del cerchio a livello professionale se vogliamo dire che il calcio è una mezza professione. Sono onorato, sono orgoglioso, sono contento, sono anche consapevole del fatto che Cuneo in questo momento non è, dal mio punto di vista, non sta calcando i palcoscenici che merita, come città, come posto, come capoluogo di provincia, io ne sono assolutamente consapevole, però è un percorso che bisogna fare, è un percorso che bisogna fare soprattutto con entusiasmo e con consapevolezza. Io l'ho detto fino a una delle primissime volte che mi è stata posta una domanda simile, io volevo essere protagonista, sapevo di avere un determinato gruppo tra le mani, ero orgogliosissimo e anche consapevole di quello che voleva dire essere l'allenatore del Cuneo, per me era fondamentale far capire che il gruppo che avevamo in mano era comunque un gruppo con dei valori. Questo è un aspetto che siamo riusciti a trasmettere e di questo sono particolarmente contento. Dobbiamo cercare di continuare su questa strada e soprattutto mi piacerebbe dare una mano per riportare il Cuneo dove dal mio punto di vista merita. E con una squadra, poi coinvolgiamo anche Valter su questo perché so che è un orgoglio anche per lui, con tanti giovani e con tanta gente di Cuneo. Questo era uno dei punti di partenza. L'Olmo vuoi per circostanze di scelta, magari qualche scelta anche un pochino obbligata, diciamo così, aveva puntato già negli anni precedenti a questo percorso, a questo cammino. Devo dire che negli anni precedenti eravamo stati bravi e fortunati ad avere in casa qualche giocatore assolutamente valido, a costruircelo e ad andare a scegliere qualche giocatore sempre nelle zone limitrofe a Cuneo che ci poteva essere utile. Io devo essere obiettivo soprattutto su una cosa, questa fusione, questa nuova società diversamente dalle altre volte ha portato continuità e secondo me è stato un passaggio molto intelligente perché non ha fatto proclami ma ha cercato di far capire che il loro obiettivo era quello di coinvolgere il territorio attraverso la prima squadra, attraverso il settore giovanile, fare dei passi legati a quelle che erano le potenzialità e man mano, se ci saranno le potenzialità, crescere. E questo qui secondo me è stato fondamentale. Poi lo dico principalmente da tifoso, poi che ci sia Magliano o che ci sia qualcun altro che a me piacerebbe poi vedere Cuneo in campionati più prestigiosi. In questo momento siamo qui, sono orgoglioso di essere qui, attenzione, sono orgoglioso di essere qui e sono anche sicuro che tutti quanti i ragazzi che alleno ce la metteranno tutta per continuare a fare quello che si sta facendo. Poi tireremo le somme alla fine dell'anno. Assolutamente. Walter, ha detto tutto lui, cunesità nel senso di giocatori di Cuneo che è una cosa che spesso chiedevano anche la tifoseria, giovani, se riuscite anche a vincere avete fatto davvero bingo. Sì, diciamo che era il nostro obiettivo portare i più giovani possibili dal nostro settore giovanile e coinvolgere anche il territorio, infatti arrivano dei ragazzi da Mondovie e da Fossano. Quindi continueremo su questa strada anche perché il bilancio che abbiamo per il momento non ci permette di fare altre cose. Però, come diceva giustamente il mister, stiamo lavorando anche per strutturare la società, nel senso partire da cose anche piccole, da magazziniere, professionista, da team manager che segue bene quello che deve fare. Cioè tutte cose importanti per poter poi crescere e poter poi puntare in alto, ma prima devi costruire sotto che è troppo importante. Assolutamente. In breve, mister, come si riparte dopo una sconfitta così? Alla prossima, perché come avete detto tutte e due, adesso non si può tanto prendere fiato perché sarà un rush finale da brividi. Si gira la pagina dal punto di vista mentale, cercando però di capire gli errori che si sono fatti, che ultimamente purtroppo ne stiamo facendo qualcuno di troppo, e quindi cercheremo di lavorare da quel punto di vista lì. Però, soprattutto, si proverà a caricare le batterie mentali, a recuperare tutti e a ripresentarsi con entusiasmo alla partita di domenica, che sarà una partita assolutamente tosta, importante, perché il Vanchiglia penso che sia la squadra in questo momento con il Pinerolo, con il filotto positivo più importante di tutte. Quindi sarà una partita tosta, come la classifica dimostra, è una classifica particolarmente corta e probabilmente solo l'Atletico Torino ha qualcosa in meno rispetto a tutte le altre. Tutte le altre sono partite da prendere con le molle e domenica sarà una di queste. Walter, quindi appuntamento al Paschiero, perché bisogna spingere questa squadra. Anche perché, come diceva il mister, noi all'andata non abbiamo fatto proprio questo percorso, perché con Moretta e Benazone abbiamo vinto, però dopo la sconfitta di Pinerolo ci siamo guardati in faccia perché eravamo anche lì e abbiamo cominciato a fare questo filotto dove ci aveva portato essere campioni d'inverno. Quindi la domenica si inizia e abbiamo partite difficilissime con il Dronero e Alba a calcio, però con l'aiuto dei tifosi potremmo farsi. Bene, siamo in chiusura di questo primo appuntamento, spazio dedicato al Cuneo Olmo, che avremo appunto ogni settimana, quindi l'appuntamento con questo spazio è per la prossima settimana. Io faccio un grosso in bocca al lupo, naturalmente già per la prossima partita vi seguiremo, naturalmente poi sarete ospiti con altri protagonisti già dalla prossima settimana. Grazie al direttore generale Walter Vercellone, grazie Walter e grazie all'allenatore Michele Magliano. Grazie, in bocca al lupo. Noi ci fermiamo qui con Marte di Sport, l'appuntamento è per la prossima settimana. Vi lascio come sempre alla sintesi, all'ampia sintesi della partita di pallavolo femminile di serie A1 della Bosca San Bernardo che ha perso sul campo di Monza per 3-0. Buona serata. Grazie a tutti.